E' cominciato tutto ad ottobre 2012 con il tour per le regionali in Sicilia. Tutti mi conoscono per aver partecipato allo Tsunami Tour in giro per tutte le piazze d'Italia insieme a Beppe Grillo. Moltissimi mi conoscono per il video del 28 maggio in cui dichiarai l'Italia è un paese di merda, me ne vado all'estero. Pochi invece conoscono Salvo 5.0. Salvo 5.0 è 300 edizioni quotidiane di Mi Scappa la Diretta, 300 sfoghi fatti dal 7 novembre 2012 fino ad oggi sui temi di attualità. Salvo 5.0 sono 75 trasmissioni serali sui vari temi di attualità, di politica, di ambiente, con una miriade di ospiti. Salvo 5.0 sono tantissime interviste a personaggi della vita pubblica italiana. Salvo 5.0 è un progetto, anzi direi è un sogno. È un sogno a cui hanno aderito finora 450 italiani con i loro contributi da 1 euro a 200 euro. Informati. Prova a capire il progetto di Salvo 5.0 e decidi se è il caso di aderire, se è il caso di contribuire affinché questo piccolo tassello di informazione libera e indipendente possa crescere e continuare a offrire un po' di informazione. Mi raccomando, se ti interessa vai a dare un'occhiata su www.salvomandara.it. Conto anche sul tuo aiuto. Grazie.